Massimo Ghiotti, Camera di Commercio della Repubblica di San Marino. Domani un accordo con l'Italia, cosa vi aspettate? L'accordo con l'Italia è un tassello importante per il nostro Stato e per i rapporti con l'Italia, tanto che si aspettava la firma di questo accordo, quindi ci complimentiamo con il Governo per tutto il lavoro che hanno fatto e soprattutto siamo sicuri che questo importante passo sia fondamentale anche per la risoluzione dei problemi legati a San Marino e a Blacklist. Infatti anche dall'ultima analisi congiunturale che abbiamo fatto e che presenteremo a breve, risulta che ancora il 62% delle imprese hanno problemi proprio per il fatto che San Marino è ancora nella Blacklist, in linea con le percentuali delle imprese che avevano dichiarato questo anche prima. Quindi ci auguriamo che questa firma, che ripetiamo è molto importante, sia un passo fondamentale per cui risolvere anche il problema della Blacklist. Grazie.